e adesso sali però perchè se ti ammazzi eh basta che stai indietro col culo eh Marco, basta che stai indietro col culo non puoi cadere neanche se vuoi tirala avanti quella moto con ciò che arriva ma chi è quello lì? ma chi è? davvero davvero Sandro te Ciri c'è la telecamera spenta rifa rifa c'è la telecamera?